Ciao, questo è un libricino che ho trovato qui in montagna, allegato al Corriere della Sera, e che leggo tutti i giorni alla mia piccolina, che lo trova molto molto divertente. Si intitola I viaggi di Giovannino per di Giorno ed è scritto da Gianni Rodari. Ho pensato che poteva essere carino condividerlo con voi, con tutti voi che avete bambini piccoli in questo periodo di quarantena. Iniziamo! Giovannino per di Giorno, viaggiando in elicottero, arrivò nel paese degli uomini di zucchero. Dolcissimo paese, e che uomini carini! Sono bianchi, sono dolci, si misurano a cucchiaini. Portano nomi soavi, zolletta, dolce cuore, e il loro re si chiama Glucosio il dolcificatore. Anche la geografia laggiù è una dolce cosa. C'è il Monte San Dolcino, la città di Vanigliosa. Si mangia pan di miele, si beve acqua caramellata, si mette la saccarina perfino nell'insalata. Ma almeno ce l'avete, un po' di sale in zucca? No? Allora me la batto, questo paese mi stucca! Giovannino per di Giorno, viaggiando in accelerato, capitò senza sospetto sul pianeta di cioccolato. Di cioccolato le strade, le case, le vetture, le piante foglia per foglia e i fiori invece pure. Di cioccolato i monti, gli alpinisti li scalavano, ma non fin sulla cima, perché se la mangiavano. Di cioccolato i banchi della scuola e si intende che i ragazzi ci studiavano magnifiche merende. Insomma, per farla corta, in quel paese raro era dolce perfino il cioccolato amaro. Giovannino, dopo un mese di fondente sopraffino, pensò, se resto ancora divento un cioccolatino. Magari divento un uovo con dentro la sorpresa. Signori me ne vado, vi saluto, senza offesa. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in carrozzone, capitò nel paese degli uomini di sapone. Gli uomini di sapone e le loro signore sono sempre puliti e mandano buon odore. Sono bolle di sapone, le loro parole, escono dalla bocca e danzano al sole. Fa le bolle il papà quando sgrida il bambino. Fa le bolle il professore mentre spiega il latino. Nelle case, per le strade, dappertutto in ogni momento, milioni di bolle volano via col vento. Il vento le fa scoppiare silenziosamente e di tante belle parole non rimane più niente. Giovannino Perdigiorno, viaggiando a casaccio, capitò nel paese degli uomini di ghiaccio. Vivevano in frigorifero con l'acqua minerale, con il latte, la carne e il brodo vegetale. Se qualcuno per sbaglio apriva lo sportello, gridavano «Ciudete! Ci si disfa il cervello!» «Ma al sole ci state mai?» Giovannino domandò. «Al sole? Tu sei matto? Ci scioglierebbe? Oibò!» «E il cuore ce l'avete in quel petto ghiacciato?» «Il cuore scaldava troppo! Lo abbiamo eliminato!» «Che popolo sotto zero!» si disse Giovannino. «Mi si gerano le orecchie solo a stargli vicino!» Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa, che ci avete? Aria, naturalmente! E come fate a pensare? Non pensiamo per niente! Ecco, volevo ben dire! Il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Giovannino Perdigiorno, con tempo piovoso, sbarcò da un'astronave sul pianeta nuvoloso. Su quel mondo tutto grigio non ci sono che nuvole. Sono nuvole i monti, sono nuvole gli alberi. Ci sono città di nuvole e uomini nuvoloni, che fanno la faccia scura e mandano lampi e tuoni. Corrono per le strade nuvolette nere più che mai. Sono nuvole automobili e nuvole tramvai. Ci sono nuvole gatti sui tetti di nuvolaglia, che scacciano topi nuvole schizzando tra la fanghiglia. Giovannino non resiste a tanta nuvolosità e fugge in cerca di sole tre galassie più in là. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in supersonico, capitò nella capitale del paese malinconico. Era un giorno di sole, l'aria calda e turchina, ma la gente per la strada camminava a testa china e diceva, che peccato, questo tempo non durerà, chissà che nobifragio domani scoppierà. Al ristorante il cibo era buono, a buon mercato, ma i clienti borbottavano, che peccato, che peccato. Dopo il bello viene il brutto, dunque purtroppo è chiaro che domani si mangerà male e si pagherà caro. Chi prendeva dieci a scuola diventava d'umor nero e piangeva, sarà triste domani prendere zero. Cielo che pessimisti, Giovannino riflettè, questo mondo senza speranza proprio non fa per me. Giovannino Perdigiorno, viaggiando per Trastullo, capitò con sorpresa sul pianeta Fanciullo. Ma chiamarlo pianeta è quasi un'esagerazione. Si tratta di un mini mondo in una mini costellazione. Tutto è mini lassù, mini monti, mari mini, nelle città in miniatura ci stanno mini cittadini. Ma guardali un po' meglio e il mistero scoprirai. Sono tutti bambini che non crescono mai. Di diventare grandi non ne vogliono sapere. Così sono felici, così vogliono rimanere. I grandi non hanno giocattoli, ai giardini non ci vanno. Hanno solo brutti pensieri tutti i giorni, tutto l'anno. Noi stiamo bene così, senza preoccupazioni. E Giovannino disse, arrivederci, fifoni. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in su e in giù, capitò nel paese degli uomini più. Ciascuno degli abitanti di quella strana città è campione del mondo di qualche specialità. Il sindaco, per esempio, è il più magro del mondo. Poi c'è l'uomo più forte, il più debole, il più rotondo. C'è il più ricco, naturalmente, e ha come vicino il più povero con suo figlio, che è il più poverino. C'è l'uomo più duro, fatto tutto di sasso, e poi c'è il più veloce, il più alto, il più basso. Ma il più buono non c'era, e chi mai lo troverà è tanto buono che di esserlo non sa. Giovannino Perdigiorno, viaggiando sempre in quarta, capitò nel paese degli uomini di carta. C'erano gli uomini a righe e gli uomini a quadretti, perché li avevano fatti con la carta dei quadernetti. Il più forte del paese era un uomo di cartone e portava una medaglia con su scritto CAMPIONE! Poi c'era una ragazza di carta velina, leggera come una piuma, faceva la ballerina. Le case erano piccole, di carta colorata, e avevano per tetto una cartolina illustrata. Sospirò Giovannino, la carta costa poco, dare una casa a tutti da queste parti è un gioco. Giovannino Perdigiorno, viaggiando col suo sacco, capitò nel paese degli uomini di tabacco. Questi uomini in generale sono fatti così. Per naso hanno una pipa e fumano di lì. Al posto dei capelli hanno tante sigarette, che mandano tutto il giorno azzurre nuvolette. Mangiano fumo a pranzo, mangiano fumo a cena. L'aria di quel paese di fumo è sempre piena. Fumano le montagne senza essere vulcani. Nei giardini niente fiori, solo sigari toscani. Giovannino Tossiva, diavolo d'un posto! Qui c'è soltanto fumo e nemmeno un po' d'arrosto. Giovannino Perdigiorno, tra Salamanca e Saronno, capitò dormichiando nel paese senza sonno. In quello strano paese che si ha letto non lo sanno. Non gli serve, perché a dormire non ci vanno. Di giorno come di notte, è sempre in piedi, sempre in moto. In tutta la loro vita non c'è un minuto vuoto. Lavorano, si divertono, parlano, vanno a spasso. Piuttosto che far niente, suonano il contrabbasso. Le mamme e i loro bambini non cantano la ninna nanna, ma cantano sveglia sveglia sveglia, tesoro della mamma. D'accordo, bravi, benissimo, commentò Giovannino. Ora però scusatemi, devo fare un pisolino. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in bastimento, capitò nel paese degli uomini a vento. La gente a prima vista pareva tanto normale, chi col cappello, chi senza, e niente di speciale. Ad un tratto però il vento si levò. Quel che vide Giovannino adesso vi dirò. Vide la gente voltarsi come per un comando e correre con il vento, correre fino a quando? Il vento cambiò verso, soffiò in altra direzione e con lui si voltarono migliaia di persone. Soltanto Giovannino contro vento camminava, ma si accorse che un passante con sospetto lo guardava. Presto pensò tra sé, fuggi col vento in poppa, di gente fatta così, ne ho già veduta anche troppa. Giovannino per di giorno, viaggiando da qui a lì, capitò per combinazione nel paese del Ni. In quel paese la gente era timida un bel po' e non diceva mai chiaro né di sì né di no. Volete il pesce? Ni. Volete la carne? Ni. A tutte le domande rispondevano così. Ma che razza di indecisi, Giovannino si stupì. Volete la pace? Ni. Volete la guerra? Ni. Ditemi perlomeno se vi piace vivere qui. E quelli abbassano gli occhi e sospirano. Ni. Giovannino per di giorno ben presto si stancò. A questo insulso paese io dico tre volte no, no, no. Giovannino per di giorno ha perso il tram di mezzogiorno, ha perso la voce, l'appetito, ha perso la voglia di alzare un dito, ha perso il turno, ha perso la quota, ha perso la testa, ma tanto era vuota, ha perso le staffe, ha perso l'ombrello, ha perso la chiave del cancello, ha perso la foglia, ha perso la via, tutto è perduto, fuorché l'allegria.